Salve a tutti qua da Fabio, oggi c'è un nuovo video di Barbata questo video lo pubblico sulla pagina Facebook di Neofiti per Passione e sul mio canale YouTube sul mio canale YouTube rasatura tradizionale Fabio prima di iniziare questo video volevo sponsorizzare un canale di YouTube che si chiama Eros rasatura tradizionale lascerò il link in descrizione e dato le seguite di tanti merita tantissimo si soffrona la faccia con la cortanda iniziamo a mettere oggi usiamo il completo c'è la B c'è la Russo scusate il gel per barba per barba c'è la rossa scaldiamo un attivino ma va di 3-4 giorni e volevo dire una cosa grazie di tutti dei nuovi iscritti chi mi segue da un po' stiamo crescendo piano piano mi fa molto piacere grazie per la fiducia che mi state dando grazie per la fiducia che mi state dando intanto che si agisce come il rasoio e 3-4 giorni è un po' e 3-6 giorni lo appoggiamo qua così almeno sta buono armato con le Lord Classic grazie a tutti perfetto perfetto poi come sapone ovviamente il cella russo e lo monteremo un pochino qua poi lo finiamo in viso ricordati che si vuole tanta acqua per montare il cella russo perché è danno vato il pennello usiamo il genito in tasso una scaldatina non è che proprio molto proprio tanto lo prendeva un attimino è proprio finico di montarlo quello di non montarlo completamente in sotto la cosiddetta eros grazie Grazie. Allora, ed un Jagger Trunk 6 armato con Lord Classic. Allora, ed unggio. Perchè non c'è bisogno di tre, secondo me. Perchè non c'è bisogno di tre, secondo me. Perchè non c'è bisogno di tre. Perchè non c'è bisogno di tre. Se te lo usi con l'angolo giusto aperto, ci taglia bene. E non dire basta. Perchè non c'è bisogno di tre. Perchè non c'è bisogno di tre. Passaggio. Perchè non c'è bisogno di tre. 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 Dicchi nei commenti se voi avrete iniziato a fare la rastratura nazionale, è vero che cresce di più. Adesso ci ricerchiamo, l'acqua fredda. Guarda che buono, adesso ci mettiamo il balsamo dopo barba, sempre c'è la rosso. Intanto che si asciugano un attimino, poi ci mettevano a nutrizione. Allora, queste Lord Classic, così, con questo arzoglio ad un Jaguar Tion 6, sono fatte, sono veramente delle lamette che funzionano alla perfezione. Non lo strappano, vanno in profondità ma sono delicate, c'è un taglio delicato ma va in profondità, non tanto, va in profondità ma non è che ti irrita, ti irrita ecco, quindi è una grande lametta Lord Classic, la consiglio perché ci sta come lametta secondo me. adesso ci mettiamo il cello a busto, la nuzione. a busto, la nuzione. raccomando adattevi a iscrivervi al canale di Eros che fa dei bei video molto belli, di rasatura tradizionale e lui si fa anche le pelate, merita tantissimo, è un braio. non datovi sicuri che veramente merita. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, commentate e lasciate un like. Allora, ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti voi del gruppo Facebook, inoltre di comprensione e sul mio canale, ragazzi, la tua attenzione è Fabio. Da tutto, adio. Buona serata. Buona serata. Buona serata.